L'Italia riapre ma resta il coprifuoco. Continuano a crescere le polemiche sulla decisione del Governo di mantenere il divieto di uscire di casa dalle 22 di sera alle 5 del mattino. In particolare sono i rappresentanti della Lega e del centrodestra a scagliarsi contro la misura. Nel momento in cui si decide di poter avviare la riapertura di alcune attività, dichiara il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Moltemi, bisogna spostare il limite del coprifuoco almeno alle 23. Quella del coprifuoco è una norma, sottolinea, che non è nemmeno supportata e certificata da evidenze scientifiche e sanitarie. Il Paese ha bisogno di riprendersi le sue libertà, anche la cancellazione del coprifuoco. Pensiamo di cancellarlo con la collaborazione e il dialogo all'interno del Governo. Dura la reazione del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che, pur se concorde con il sottosegretario, né critica la polemica. Ci dovrebbe dire la Lega che proposte ha per contrastare l'epidemia nei luoghi di assembramento. Personalmente sono per l'apertura dei ristoranti fino alle 23 e consentire il rientro a casa dei clienti entro le 23.30. Non è lì, sottolinea il Governatore, nei ristoranti gestiti in condizione di sicurezza che si determina l'esplosione del contagio. Ma nella movida incontrollata, quando hai migliaia di persone, senza mascherina, in luoghi affollati.